la faccenda si fa molto interessante devi spiegare il funzionamento del pannello dottore a volte si riduce a un sacco di cose un sacco di cose poco dignitose per dottore per fare visualizzazioni dottore è necessario devi cambiare non credo di sapere come devo fare ragazzi ci siamo spinti un sacco altre non so se hai fatto una cacca però speravo di non arrivare mai in questo momento pannoline conoscere pannoline conoscere Cristian ha fatto cacca Cristian ha fatto cacca bravo Cristian battere 5 poter togliere il pannolino Cristian? si grazie oggi spiegare come funzionare il pannolino pannolino funzionare che andare sotto ciappetti pampino non hai adottore non avere figli e sarci motivo ecco chiudere il pannolino e pannolino trattenere sostanze che pampino piace piace sostanza che trattiene il pannolino? piace a me non Cristian dover alzare il culetto state fermi bravo Cristian che aiuta dottore alza il culetto bravo inserire il pannolino ok bravo Cristian perfetto dottore dottore parente modello dottore si cambiava da solo pannolini quando è età di Cristian si Cristian contento ora pampini a parte siamo qua per fare esperimento perché dottore famoso per questo pannolino avere proprietà incredibile vedere questa polverina polverina ricavata da pannolino perché se noi prendere distendere il pannolino una volta tagliato il pannolino bisogna tirarlo con forza prontale e vedere che all'interno di pannolino è sareci polverina dottore come bucciaccia dottore aver messo da parte un sacco di polverina prima quindi dottore pronto per esperimento e chiama polverina di pannolino all'interno di caraffa caraffa inizia a diventare magica perché noi prendere acqua e versare in brocca se noi versiamo acqua in brocca di polvere noi otteniamo magia bisogna prima mescolare acqua di brocca mescolare più lentamente magari una volta mescolata acqua di brocca la magia può avere effetto perché noi prendere la caraffa utilizzata con da freno a 5 in tedesco hai fai tre fia cartofen e noi girare caraffa e avere acqua non scendere perché essere magica acqua non scendere ma io necessità di mostrare scendere acqua essere veramente troppo magica un po' meno dottore spazientito dottore spazientito dottore ha reso acqua essere diventata materiale per palline magiche rimbalzanti dottore ha creato nero artificiale non capire però funzionare dottore necessità di lavare le mani quindi dottore contento di esperimento contento di aver familiarizzato con pampini dottore gentile speriamo che episodio piaciuto a essere inferiori che mettono mi piace a tutto mettete mi piace dottore appuntamento al prossimo episodio datemi il lavandino grazie grazie